Dopo due anni di grande tristezza Pasqua finalmente è tornata dai livelli normali, quindi ai livelli pre-Covid e quindi per quanto riguarda almeno il fine settimana di Pasqua stiamo andando verso un tutto esaurito. Il turismo ad Arezzo riparte con la Pasqua, con un sold out nelle strutture ricettive della città. Abbiamo rivisto un po' di domanda e di flussi pre-pandemia, quindi una Pasqua buona, 25 aprile, che già ora si prospetta quasi tutto esaurito. In generale diciamo un aprile ma anche un maggio che dà dei buoni segnali anche perché anche in questo 2022 abbiamo iniziato male perché i primi mesi dell'anno con questo nuovo semi-lockdown comunque tanti alberghi avevano richiuso, comunque c'era poco flusso. Il vero banco di prova sarà ovviamente il mesi di giugno, luglio, agosto che sono stati particolarmente importanti e quindi hanno registrato degli afflussi estremamente positivi, dei trend molto positivi durante la pandemia. Bisogna capire se questo trend continuerà. Non è comunque ancora tempo di festeggiare per il settore. Se infatti con le festività pasquali si torna a registrare il pienone di arrivi come ai tempi pre-pandemia, il futuro appare ancora molto nebuloso a pesare adesso le incertezze dovute al conflitto in Ucraina. Sicuramente il problema delle difficoltà energetiche e il fatto che ci sia una guerra in Europa, una guerra così esposta in Europa, ha dato un freno a quello che gli americani chiamano il revenge tourism, cioè quel ritorno abbondante e irruento alla situazione del turismo, alla situazione pre-Covid. Ora siamo molto schiacciati da tutti quelli che sono gli aumenti dovuti alla guerra, l'inflazione che per certi versi sulle nostre forniture sono molto alti, qualcuno ha raggiunto anche il 30% di aumento. Noi facciamo grande fatica invece ad aumentare il prezzo della camera perché è più difficile poi riuscire a venderla, perché ricordiamoci che soprattutto il turismo è un qualcosa che lo fai per scelta, non è una cosa obbligatoria. Quindi se una camera d'albergo, una trasferta fuori ti costa troppo, finisce che decidi di non farla.